amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive anche in questo caso facciamo seguito ad altre puntate similari dove prendiamo alcune domande che ci vengono fatte spesso e volentieri o su commenti di altri video o perché mi arrivano direttamente dai clienti via mail per telefono spesso abbiamo richieste che ci chiedono che cosa poter fare su un motore aspirato cioè adesso la stragrande maggioranza delle vetture salvo rari casi sono quasi tutte turbo compresse soprattutto quelle di ultimissima generazione saranno praticamente tutte turbo compresse però ci sono ancora in circolazione tante vetture magari ancora di alcuni anni fa i cui proprietari sono assolutamente soddisfatti e vogliono mantenere in piena efficienza vogliono magari fare qualche cosa in più per avere qualche prestazione in più quindi c'è anche questo aspetto e spesso e volentieri abbiamo richieste per migliorare le prestazioni a livello motore perché poi per il resto sono esattamente uguali a set impianto frenante estetica che sia un motore aspirato un motore turbo non cambia niente quello che cambia radicalmente è la parte del motore dove in un caso è un motore diciamo atmosferico e nel secondo caso un motore turbo compresso quindi con differenze di erogazione differenze di potenze completamente diverse fra loro allora partiamo subito dal concetto che come dico io spesso tirar fuori sangue dalla rape è molto molto difficile se non impossibile quindi avere incrementi di potenza sensibili su un motore aspirato spesso e volentieri non dico che sia impossibile ma il diventa economicamente non conveniente qualche cosa si può fare si vanno a fare delle piccole ottimizzazioni per avere la macchina un po più pronta un pochino più brillante sapendo che c'è un limite oltre il quale non si può andare perché proprio manca un componente moltiplicatore esponenziale che è la turbina con la quale io posso avere delle modifiche anche facendo dei lavori relativamente semplici posso avere degli incrementi di potenza che su un aspirato assolutamente non è possibile comunque diciamo che su un aspirato sconsigliamo al cliente di fare dei lavori troppo impegnativi troppo invasivi che sarebbero oltremodo costosi e non garantirebbero comunque una potenza un incremento di potenza giustificato giustificabile partiamo sempre dal concetto che noi il la trasformazione come spesso veniva fatto in passato noi non ci abbiamo mai creduto e non anche da un punto di vista legale tecnico non siamo mai stati dell'opinione di farlo tanti ci chiedono se è possibile trasformare una vettura da aspirata turbo allora la risposta è tecnicamente è possibile il rapporto spesa vantaggi diciamo così non sono non sono positivi soprattutto la fidabilità o si comprano dei kit già fatti per quella specifica macchina o se no il gioco non va alla candela quindi questo è proprio un settore una strada che noi assolutamente non perseguiamo perché con gli stessi soldi uno vende la macchina e ne compra uno più potente ha speso meno sicuramente quello che viceversa si può fare è arrivare fino al cosiddetto stage uno per cui ottimizzare determinati ambiti che nello specifico sono lo scarico la linea di scarico si può ottimizzare a seconda che sia un aspirato un turbo diciamo sia a livello di terminale centrale e mi fermerei al centrale perché andare a toccare un catalizzatore su una una vettura aspirata non avrebbe senso perché i catalizzatori si cambiano per abbassare le temperature dei casi scarico e sono come dire utili nel momento in cui uno fa uno stage 2 su una macchina turbo che un aspirato direi mi fermerei al centrale la parte di aspirazione si può fare tanto quanto quindi normalmente consegniamo di mettere il classico filtrino a pannello che sostituisce l'originale kn bmc la macchina il motore respira meglio e va benissimo il pedal booster che quel sistema che ho spesso elencato in altri video che su un aspirato è veramente eccezionale è la il tipo di modifica indicata per questo genere di finalità cioè non da cavalli però va a variare in maniera più che sensibile la risposta sul pedale acceleratore si toglie quel buco iniziale la macchina fra una cambiata e l'altra calerà meno di giri e devo dire che il risultato su qualunque macchine che noi abbiamo sulla quale abbiamo montato questo sistema è stato più che eccezionale quindi su soprattutto su una vettura aspirata dato che abbiamo poche frecce da 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 mettere sul nostro arco questo è sicuramente direi la più efficace quindi un pedal booster direi numero uno quando si parla di motori aspirati e come ultima razio un'ottimizzazione dei parametri al centrale elettronica ben sapendo che noi possiamo lavorare solo sugli anticipi valori iniezione accensione non possiamo lavorare su altri parametri di pressione tipo punta turbina perché la turbina non c'è e quindi andiamo a ottimizzare quello che una curva di coppia ma non a cambiarla radicalmente se io faccio una stampata di un motore aspirato vedendo i parametri della vettura prima e dopo l'intervento le due coppie saranno diciamo molto molto vicine fra loro cosa ben diversa su una vettura turbo dove la curva di coppia o di potenza iniziale rispetto a quelle modificate si scostano in maniera notevole su un aspirato diciamo si vanno a linearizzare guadagna leggermente i consumi la macchina si sente che un pochino più brillante però tenendo conto che su una qualunque vettura aspirata stiamo parlando di un incremento di cavalli inferiore ai 10 cavalli quindi anche lì da pesare bene il diciamo il ragionamento se vale la pena a fronte di un determinato costo fare questo tipo di modifica altri lavori a livello motore su un aspirato io personalmente tanti mi conoscono con tanti ho affrontato questo genere di problemi io li sconsiglio perché sono soldi secondo me non spesi in maniera logica piuttosto uno dice mi tengo non so la mito 78 cavallo 70 cavalli sono quelli si fanno delle piccole incrementi per cui guadagniamo 5 7 8 cavalli e poi vado a lavorare su quello che sono altri componenti l'assetto l'impianto frenante cioè è molto più soddisfacente avere una macchina in piena efficienza che consente di guadagnare cioè di apprezzare o di sfruttare tutti i cavalli fino alla fine che non avere una macchina che magari a 150 cavalli con un assetto da migliorare con un impianto frenante magari anche quello con dei deficit dove uno i 150 cavalli non li sfrutta quindi è meglio avere poco ma poco assolutamente efficiente io direi che anche per questo argomento spero di essere stato esattivo aspetto i vostri commenti ai quali poi come sempre faccio darò le mie risposte per qualunque genere di altre informazioni sapete dove trovarmi per il momento è tutto un saluto alla prossima